quattro adorabili suricati hanno attirato tutta l'attenzione su di sé con il loro debutto davanti ai turisti dello zoo di chester traballanti su loro passi hanno cominciato a perlustrare il territorio il più giovane è nato il 21 agosto scorso ancora qualche difficoltà a lasciare la mamma ma gli altri ormai sono quasi completamente indipendenti